Previamente, visto che nel mio precedente intervento ho fatto presente che questo è semplicemente un ordine del giorno più estensivo di quello già formulato e approvato, cioè l'ordine del giorno numero due, prevedendo per tutti i privati le possibilità di esenzione per il buon intento di facilitare gli ausili alle disabilità. Penso che sia un buon intento e che questo poi andrà tradotto sicuramente anche in una modifica del regolamento di occupazione del solo pubblico, formulata magari con la verifica anche dei dipartimenti competenti affinché sia scritta in modo corretto ed efficace. Grazie.